Silvestre in famiglia per il sindaco di San Vito, Antonio Di Bisceglia, appena dimesso dall'ospedale. Sì, è un grande gioia, trascorrerò in famiglia dopo aver superato questa bruttissima disavventura e ovviamente avviando gradualmente la operatività. Sono molto contento, come potrei non esserlo, anche per la straordinaria vicinanza che ho sentito dai cittadini, da tantissimi, tantissimi cittadini, dalla comunità sanvitese e non posso che ringraziare innanzitutto la mia famiglia e tutti i cittadini, come dicevo, tutti quanti insomma hanno ritenuto di attestarvi vicinanzi. È stata un'esperienza purtroppo che avrei preferito non avere, avrei preferito evitare, tuttavia tutto è bene quel che finisce bene, diciamo così.